Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di Sardegna Ricerca che presenterà la microrette sperimentale. Anche in questo caso vi invito nel caso in cui doveste avere delle domande puntuali alla fine di ogni intervento di farla ai relatori altrimenti vi invito di partecipare al dibattito finale. Chiamo Matteo Azzori a presentare il progetto Santucar. Buongiorno a tutti. Grazie a Sardegna Ricerca per l'invito e all'ingegner Porro per averci coinvolto. Inizio soprattutto nel dire che questo per noi è un ritorno da dove tutto è iniziato perché poco più di un anno fa Santucar è stata presentata per la prima volta proprio all'interno di un evento di Sardegna Ricerca e qui in San Manifattura. Santucar diciamo che si sposa perfettamente con l'argomento di oggi ossia parliamo di mobilità elettrica. Ma facciamo un passo indietro rispetto a tutto quello che abbiamo già visto oggi cioè quindi di vehicle to grid. Qui parliamo e analizziamo un attimo la mobilità dalla base cioè la mobilità elettrica soprattutto in funzione del fatto che una delle più grandi barriere all'acquisizione della mobilità elettrica è rappresentata dall'incertezza di poter arrivare a destinazione. Perché? Potrò ricaricare quando arrivo a destinazione? Dove potrò ricaricare? Quando? E quanto? Soprattutto per poter rientrare alla propria abitazione e che tutte queste domande e le non risposte a queste domande si classificano nel problema della range density. Cioè quindi l'ansia di non sapere se possa arrivare a destinazione. Diciamo che in giro per il mondo in questi anni in cui la mobilità sta cercando di diffondersi qualcuno si è organizzato come ha potuto. Chi ha messo un gruppo elettrogeno ma vi faccio notare che anche a Cagliari non ci mancano le soluzioni perché qualcuno ha pensato di lanciarsi una prolunga dalla finestra. Questa è una foto fatta a Cagliari. Ognuno cerca di arrangiarsi come può soprattutto pur di sposare la mobilità elettrica. Quindi la domanda reale di ricarica da parte dei mobiliter, quindi di chi utilizza la mobilità elettrica, c'è come poter dare una risposta o integrare le risposte che già sono presenti all'interno del panorama, quindi delle reti e soprattutto dei punti di ricarica. In questo senso noi abbiamo pensato di sfruttare qualcosa che era già presente nel panorama e nell'infrastruttura, nel tessuto delle abitazioni e delle città, cercando di un minimo impatto nella rete. Abbiamo pensato che soprattutto per poter soddisfare la domanda di auto elettrica che è costantemente in crescita, questi sono dati del politico di Milano, quindi confermono ovviamente anzi, ribadiscono quanto veniva evidenziato in precedenza. Questo è il trend e queste sono le auto del 2018, ben prima degli incentivi di quest'anno. Una delle soluzioni che noi abbiamo ipotizzato è la possibilità di sfruttare l'energia che è attualmente già prodotta. Questo che vedete qua è una rilevazione da un sistema di monitoraggio reale installato in un'abitazione qui in Sardegna dotata di un impianto piccolissimo fotovoltaico, neanche 3 kilowatt. E questa che vedete in grigio sono i consumi, questa verde, tutta l'aria verde, tutta energia prodotta in una giornata normalissima, è ceduta alla rete. Quindi non autoconsumata. E allora abbiamo pensato, ma visto i grandi numeri di impianti già presenti, soprattutto che questa è un'abitazione, ma possono essere anche gli esercizi commerciali che nei giorni in cui sono chiusi possono avere altre, non utilizzano l'energia, perché non renderla disponibile a chi ha necessità di ricaricare in quella zona? Perché considerate anche un'altra cosa in particolare, che gli impianti fotovoltaici, soprattutto quelli domestici, sono presenti praticamente in tutti i comuni della Sardegna, ma dalla nostra analisi che abbiamo fatto, già installati i operanti, anche nei comuni più piccoli della Sardegna ci sarebbero almeno due impianti fotovoltaici che consentirebbero di erogare ricariche anche in modalità fast. Quindi non soltanto ricariche lente, ma anche con una certa disponibilità di potenza. E sono già operativi da adesso. In questo senso abbiamo ideato una soluzione, possibile soluzione, che consentisse di rendere disponibile l'energia prodotta da questi impianti a chi ha necessità di ricaricare. Quindi abbiamo appunto che ogni abitazione produce energia, non la consuma, la cede alla rete, ma questa energia anziché cederla alla rete la posso mettere a disposizione con un sistema di ricarica pubblico a chiunque voglia passare. In una forma totalmente automatica e autogestita. Attraverso un'app, un RFID, l'utente può sapere quando è disponibile la stazione, fermarsi e ricaricare, senza che il proprietario dell'impianto fotovoltaico debba occuparsi di qualsiasi adempienza di rendere disponibile la stazione. Proprio perché abbiamo cercato di rendere il tutto autonomo e fruibile. E in questo senso noi ci siamo posti come facilitatori dell'incontro tra domanda di ricarica e offerta di energia. E in questo senso soprattutto non ci sarebbe appunto nessuna incombenza tra i due utenti, ma il fatto che noi ci poniamo come condivisione reale in forma peer to peer, quindi c'è uno sharing energetico. Chi produce energia ha la possibilità di cederla a chi ne ha necessità in quel momento. E considerate soprattutto che l'energia prodotta e non autoconsumata in quell'istante viene ceduta alla rete con una valorizzazione praticamente minima dello scambio sul posto e invece i prezzi medi attuali delle ricariche offerte dalle tante, in alcune zone, colonnine di ricarica dai principali operatori hanno costi importanti, ben oltre quella che è una normale tarifa domestica. In questo senso possiamo offrire energia 100% rinnovabile a metro zero, perché è prodotta lì localmente, ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto alla media di mercato, ma soprattutto dare una valorizzazione superiore allo scambio sul posto a chi la sta cedendo. Questo appunto erano i punti che vi evidenziavo in precedenza e soprattutto il fatto che si avrebbe una copertura capillare del territorio. In questo senso la ricarica noi abbiamo anche pensato a come rendere fruibile e soprattutto come una comunità possa beneficiare di questo servizio di ricarica. Quindi rendendo la ricarica non un fine ma un mezzo, un mezzo perché queste piccole località, i paesi, non siano esclusi dai futuri flussi veicolari, perché un domani se io per poter garantire il mio diritto alla mobilità e devo andare da A a B io devierò il mio percorso per poter ricaricare e se non troverò stazioni io in quelle località non ci passerò più o non penserò manco di passarci. In questo senso invece la presenza capillare dei punti degli impianti fotovoltaici e delle stazioni alimentate da questi impianti può consentire di ricaricare praticamente in tutti i paesi e tutte le piccole località o ancora meglio di fare in modo che qualcuno che non conosceva quella determinata località per poter ricaricare possa passare in quella località. E nel momento in cui si ferma per la ricarica ed è un tempo che per forza deve impiegare anziché star seduto in macchina scoprire quella località, quindi cercare di usufruire anche dei servizi che ci sono in quella località quindi dei servizi turistici, soprattutto dei servizi commerciali e quindi anche cercare di renderle comunque attive e non subire quella che sarà la transizione della mobilità che potrebbe escluderli pesantemente. E quindi in questo senso ha un impatto nell'indotto con le amministrazioni locali, con i servizi B2B e soprattutto con il fatto che le si rendono attive ma anche con una mobilità di prossimità che è realmente a zero emissioni perché non ci sono emissioni date dai mezzi ma soprattutto anche dal fatto che non si va ad operare e non si va a sovraccaricare la rete di distribuzione se non in minima parte ma ben diverso dal fatto di creare da zero stazioni di ricarica connesse alla rete di media o di bassa tensione perché sono già alimentate localmente. Ecco qui diciamo è dove tutto è nato, è nato proprio in questi locali l'anno scorso durante il progetto europeo gestito da Stardine Ricerche, il progetto RITIC è stato organizzato un hackathon in cui è stata presentata per la prima volta quest'idea dove appunto ha ricevuto il primo premio che ci ha consentito poi dopo anche di essere coinvolti da Stardine Ricerche nel percorso di incubazione di impresa che ci ha portato con nostra sorpresa perché non era semplice alla realizzazione fisica della nostra stazione. Quindi siamo riusciti a realizzare fisicamente un prototipo sperimentale che attualmente è operativo di stazione totalmente alimentata la 100% rinnovabile prodotta dall'impianto fotovoltaico e ovviamente qualcuno di voi mi dirà ma quando non c'è sole con alimentazione poi con garanzia d'origine certificata della restante parte di energia che in quel momento non dovesse essere immediatamente disponibile quindi comunque garantendo il 100% rinnovabile. È prenotabile via app e soprattutto in questi primi sei mesi di operatività abbiamo avuto veramente una risposta molto particolare tanti sono stati curiosi, tante sono state le persone che sono avvicinate, soprattutto molti cittadini e qui vi porto magari un'esperienza un po' più concreta interessati ma stupiti del vedere che era qualcosa di reale perché molti ci hanno sempre detto io la macchina elettrica la prenderei ma dove la carico? E qualcuno che magari voleva investire ha detto io le stazioni le metterei anche ma non ci sono macchine, qualcuno doveva iniziare e noi abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo sono tanti quelli che hanno percepito come reale e vicino alla possibilità di avere un'auto perché tanto hanno cominciato a vedere che ci sono punti di ricarica e questo è anche quella che può essere la leva veramente per la diffusione e la penetrazione della mobilità anche in tutte le cittadine piccole o grandi che possono essere vado un attimo indietro, in questo senso l'attività appunto vuole essere proprio in una concezione che possa essere vincente per entrambi il prosumer che quindi produce energia e la cede a una valorizzazione superiore e il mobiliter che non deve aumentare i suoi percorsi per poter ricaricare ma soprattutto che avendo fatto una scelta di sostenibilità con la mobilità elettrica ha la garanzia che la propria energia non viene magari da una centrale ubicata a 100-200 km ma localmente e lo vede anche da dove viene è stata inaugurata appunto l'8 marzo è stata inaugurata e ubicata attualmente a Sardara che è un paesino, non so se alcuni di voi lo conoscono, che sta lungo la 131 a metà precisa tra Cagliari e Oristano e abbiamo scelto di ubicarla lì proprio perché è a metà appunto tra le due città diciamo della Sardegna ma proprio perché è molto vicino alla 131 e opera attualmente fornendo ricarica completamente in modalità gratuita questo per fare in modo che chiunque abbia necessità di ricaricare è vera nella stazione sia negli principali aggregatori di ricarica ma anche passando per caso nella comunità possa usufruirne e in questa prima fase sperimentale stiamo raccogliendo tanti dati che ci dicono qual è la forma e la capacità anche di fruibilità della stazione quindi che tipo di ricarica vengono fatte, quanto è il tempo impiegato come viene impiegato quel tempo e anche cerchiamo ovviamente di dare anche un servizio in funzione del loro tempo presunto di ricarica stiamo cercando di supportare proprio per cercare che l'amministrazione e soprattutto la comunità possa beneficiare e possa rendersi anche promotrice di azioni a supporto della mobilità cercando di chiedere a loro noi abbiamo un utente, un mobiliter che ha un'ora di tempo cosa possiamo offrirgli? Un servizio in un ristorante, in un bar? A due ore, una visita museale? A quattro ore, ci sono le terme vicino quindi fare in modo appunto che ci siano delle positive interazioni tra i tessuti sociali della comunità in cui va a incidere la mobilità anche forse per queste attività siamo stati coinvolti dall'assessorato all'industria nel loro progetto europeo che si occupa proprio di turismo sostenibile proprio perché la nostra finalità come accennavo prima non è soltanto quella di dare ricariche ma cercare appunto di fare in modo che tutto un sistema possa mettersi in moto per autosupportarsi l'inaugurazione, appunto queste sono alcune immagini per chi si domanda ma vabbè un impianto da 3 kilowatt una stazione di ricarica cosa ricarica, quanto ricarica il giorno dell'inaugurazione siamo riusciti a ricaricare una Tesla Model X una Prius plug-in stati in ricerche e anche una Nissan Leaf che ha consentito di riportare i passeggeri a Cagliari in tempo e in sicurezza sviluppi futuri in questo senso mi fa piacere anticiparvi un qualcosa che siamo stati chiamati a proporre in maniera un po' aspettata inaspettata da parte di un'amministrazione che ci ha chiesto ma noi vorremmo anche dotarci e supportare i nostri cittadini per poter acquisire la mobilità cosa possiamo fare noi come amministrazione e le abbiamo aiutate in questo senso sempre i comuni di Sardara che è tra l'altro il sito termale distante dal paese senza nessun tipo di collegamento abbiamo cercato di aiutarli a pensare a forme scalabili in funzione di quelle che sono le loro disponibilità di supporto alla mobilità vedete che ci sono diverse stazioni noi abbiamo supposto di creare delle stazioni di ricarica per loro ma con una differenziazione quella che vedete in verde sono stazioni ubicate una nel municipio e una nel polo termale che sono completamente autonome perché sono dotate di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo quindi anche per poterlo sfruttare nelle ore notturne quelle in giallo che vedete sono sempre stazioni di ricarica con impianto fotovoltaico ubicate però in edifici comunali che non hanno nessun tipo di efficientamento quindi cercare di poter supportare la mobilità ma facendo un efficientamento anche delle strutture comunali proprio perché il comune cercando di fare un intervento sulle proprie attività possa anche rendere fruibile questa energia che produce anche i propri cittadini le altre che vedete in rosso sono delle stazioni diciamo di prossimità in funzione della distribuzione demografica del paese in questo senso questo progetto che abbiamo preparato per loro su una richiesta ha già tirato diversi interessamenti soprattutto per la creazione e il supporto all'attività di mobilità sostenibile nel senso che crea un'infrastruttura per cui altri operatori dei servizi di mobilità possono sfruttarla per offrire per esempio servizi di car sharing di prossimità e magari anche elettrici ovviamente è ben più difficile proporre in un piccolo paese se non ci sono le infrastrutture laddove ci sono le infrastrutture si creano quelle condizioni per cui anche le piccole località non siano escluse da queste buone pratiche che troviamo soltanto nei grandi centri a Milano, qua a Cagliari perché siamo fortunati ma in tante altre città anche più grandi di Cagliari non ci sono e in questo senso stiamo lavorando e stiamo rispondendo anche a diverse altre amministrazioni che hanno e vogliono integrare la nostra soluzione di condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile anche verso la comunità e soprattutto come promotori e questo è quanto e soprattutto vi terremo aggiornati soprattutto in caso di insomma di evoluzioni che speriamo appunto si possano concretizzare presto se qualcuno vuole passare a vedere la stazione è sempre disponibile grazie per la presentazione non so se qualcuno ha qualche domanda specifica su questo progetto due domande abbiamo prego in realtà non a stasi io sono un ingegnere mi occupo il lavoro nel settore della progettazione mi incuriosisce complimenti per il progetto ma dal punto di vista commerciale siete già operativi posso sottoscrivere un contratto con voi per usufruire cioè potenzialmente io produttore oppure io utilizzatore di un'auto trovo già un'opportunità quindi posso firmare un contratto per avere dei servizi siete già in questa fase ci stiamo strutturando nelle prossime settimane o in qualche mese per rendere completamente operativa dal punto di vista commerciale anche la nostra struttura che non pensavamo di arrivare a questo livello soprattutto per le attività commerciali su cui abbiamo puntato per offrire perché saranno quelle che possono beneficiare in maniera rilevante soprattutto degli utenti che arrivano per ricaricare la scelta di aver proposto e di aver realizzato una stazione in un'abitazione era per realizzarla nelle condizioni più estreme diciamo in cui non era pensabile per dimensione e potenza mi fa piacere la domanda perché mi riallaccio a un punto già evidenziato dal professor Piro nella precedente presentazione in cui abbiamo già avuto modo di confrontarci che attualmente la stazione di ricarica nell'utenza privata eroga ricarica in forma gratuita perché è un nostro investimento ma anche perché non potremmo farlo a pagamento perché è un'utenza privata proprio perché il legislatore l'autorità non si è ancora non ha ancora previsto la possibilità e soprattutto la natura di questi soggetti soprattutto per gli utenti privati in questo senso stiamo abbiamo già intrapreso la possibilità insieme all'autorità proprio di proporre a loro di poterci configurare in quella zona di sperimentazione normativa in cui diciamo operare diciamo all'esterno di questo vincolo normativo che attualmente c'è per le utenze private mentre per le utenze commerciali è già immediatamente disponibile cioè un qualsiasi albergo attività commerciale una rivendita può già installarla può già erogare ricariche con una remunerazione e siamo già operativi tant'è vero che alcune delle amministrazioni che ci hanno contattato stiamo in fase diciamo propositiva nei loro confronti e dovrebbero decidere dovrò tanto decidere se installarla perché siamo già operativi da questo punto di vista per le utenze commerciali mentre per le utenze private diciamo che abbiamo avuto proprio essere quasi quello stimolo per poter dire c'è questa opportunità tecnicamente fattibile come si è visto anche nell'altra presentazione ma buracriticamente va affrontata c'è un'altra domanda molto grazie grazie grazie